E' arrivato il maltempo di Ferragosto a Pesaro Urbino e in tutte le Marche, una notizia che ogni anno diventa sempre più tradizione e che ha una puntualità incredibile. Quest'anno però si è fatto attendere qualche giorno in più, arrivando subito dopo il 15 di agosto, dove comunque si era annunciato sui cieli di Pesaro con qualche nuvola scura e piccole gocce d'acqua che hanno rinfrescato i piesaresi nel giorno d'estate per eccellenza. Una pioggia che porta con sé due volti, uno positivo ed uno negativo. Partendo dal primo, quest'ultimo riguarda principalmente i fiumi ed il conseguente tema della crisi idrica, sperando che l'intensa pioggia degli ultimi giorni possa dare respiro e speranza alle acque del Burano e del Furlo. E poi c'è l'aspetto, meno importante sicuramente per la natura, ma maggiormente sentito dai bagnanti, che è quello della mucillagine, poiché soltanto un'intensa pioggia avrebbe potuto pulire le acque del mare e dunque ecco il servizio di pulizia naturale che è stato servito. Ci sono poi però anche gli aspetti negativi che una pioggia del genere comporta, purtroppo ogni volta che cade. Sono stati infatti numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sul nostro territorio per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade. Anche questa volta infatti non sono mancati alberi cadutei o strade che non sono riuscite a contenere l'acqua. Fortunatamente però non si sono registrati gravi incidenti e anche i disagi provocati sono stati prontamente risolti.